Quella che avrebbe dovuto essere una giornata spensierata con i suoi amichetti si è trasformato in una tragedia per un bambino di sei anni. Questa mattina il piccolo è morto annegato nelle acque di fronte al lido paradiso dei giovani a Margherita di Savoia nella provincia di Bari. Secondo quanto riportato dai soccorritori il bambino di origine romena stava partecipando a un campo estivo e si stava divertendo con dei giochi in mare quando è annegato. Nonostante l'intervento tempestivo del personale del 118 i soccorsi sono stati purtroppo inefficaci e hanno solo constatato il suo decesso. Il piccolo avrebbe compiuto sette anni il prossimo 21 luglio ed era nato a Cerignola, Foggia ma risiedeva a Canosa di Puglia a differenza di quanto inizialmente riportato riguardo alla sua residenza a Trinitapoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.